A due settimane dall'accaduto parla la vigilessa aggredita lo scorso 25 maggio a Pradalunga. Lo fa mentre è ancora in infortunio a casa con due denti rotti. Non riesco a dormire, racconta la donna. Penso a quanto sono stata fortunata, al fatto che l'aggressore non avesse un coltello o una spranga, altrimenti non sarei qui. La donna, agente di polizia locale da 18 anni e in servizio al comando di polizia locale dell'Unione insieme sul Serio, che ha sede a Nembro, è stata aggredita da un senegalese mentre gli stava controllando i documenti. Riscontrato un caso di residenza fittizia, mentre stava scrivendo il verbale, l'uomo incensurato ha cominciato a malmenarla, picchiarla e minacciarla. Ero in auto in quel momento e ho chiesto aiuto al comando tramite il mio telefono, perché le radio non funzionano, continua la donna. Mentre sono arrivati i miei colleghi, sono passati 18 interminabili minuti di botte e di paura. Nelle scorse ore si è espresso con solidarietà nei confronti della donna l'assessore regionale alla sicurezza e migrazione polizia locale Riccardo Decorato, che ha invitato la vigilessa ad utilizzare il fondo di indennizzo che Regione Lombardia ha messo a disposizione degli operatori di polizia locale vittime di reati. A questo proposito ha espresso vicinanza anche il segretario provinciale del sindacato di categoria, Giovanni Novali. Oggi si è svolta la prima udienza a carico del senegalese. La donna non si è costituita parte civile perché non è prevista un'assistenza legale. La donna non si è costituita parte civile. Grazie a tutti ieri. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti